Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo su Palmino Motorashport, questa volta però con un video un po' diverso dai precedenti. Ci saranno delle elaborazioni con contributi video e fotografici, però non si parlerà di una storia del passato di moto mondiale o superbike, bensì di un ragazzo che purtroppo ci ha lasciati. Sto parlando di Filippo Momesso, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel paddock del Cib, dove era attivo da diversi anni tra Cib, National Trophy e Trofeo Perilia RS660. In questo video voglio cercare di ricordare Filippo nel miglior modo possibile, ecco, per il pilota che era, per il ragazzo che era, per come ho potuto conoscerlo online di persona e spero di farlo, ecco, appunto nel migliore dei modi. Partendo dal lato che gli affassionati che seguono, ecco, le gare, ecco, del motociclismo nazionale italiano, Filippo Momesso aveva iniziato la sua carriera nelle minimoto, confrontandosi anche con piloti arrivati poi al moto mondiale. Basti pensare a Marco Bezzecchi, che gli ha anche indirizzato una bellissima dedica direttamente dal Gran Premio d'India. E poi era passato alle ruote alte, tra pre-GP 125, Sport 4 Tempi, l'antenata da Subasport 300 e alcune gare nel Cib per moto 3. Questioni economiche non gli avevano permesso di intraprendere un percorso nella moto 3, per poi arrivare alla moto 3, come hanno fatto tanti altri ragazzi. E infatti Momesso aveva dovuto ripiegare, appunto per motivi economici, sul National Trophy. Il passaggio però si è rivelato positivo per lui col titolo nella moto 2 nel 2016. Ottimi risultati nella 600 negli anni a seguire. Nel 2019 aveva corso anche nel Cib Super Sport 600 andando più volte a punti e poi si era distinto sempre nel National Trophy e in particolare nel 2021 nel Trofeo Aprilia RS 660. Alla prima edizione infatti Filippo aveva conquistato tre terzi posti, la vittoria all'ultimo round stagionale a Vallelunga e il secondo posto finale. Nell'ultimo biennio aveva gareggiato nel National Trophy 1000, salvo durante la stagione in corso tornare a Trofeo Aprilia RS 660 e farlo in grande stile andando subito sul podio al Mugello. Però in questo suo andare in moto c'era anche un altro aspetto che andava al di là del puro gareggiare e magari ne parliamo con le sue stesse parole. Ho avuto esperienze come collaudatore e come tester e mi è piaciuto molto. Nel 2015, ero ancora piccolino, avevo 16 anni, però ho contribuito allo sviluppo del prototipo della Twitch Polito che corre nella premoto. È stato il primo anno che entravano nell'ambito del Cib loro dopo aver fatto il Moto Student che è una competizione universitaria. Però le tratte queste da un'intervista in diretta Instagram che avevo fatto con Filippo due anni fa. Al di là di questo però, Filippo era molto di più. Era un ragazzo eccezionale, simpatico, cordiale, sempre disponibile per una chiacchierata. Una persona che ti faceva stare bene e riusciva a strapparti un sorriso anche quando non ti sentivi al massimo. Una persona che era lanciata anche al di fuori delle moto con tanto di laurea in ingegneria informatica e che aveva tante passioni, compresa anche quella per la musica rock ricordata nel suo post per comemorare Filippo da Luca Gorini, noto fotografo impegnato nel motociclismo internazionale. Ecco qui questo scatto pubblicato appunto da Luca Gorini da un concerto a cui erano andati insieme dei Guns N'Roses. Filippo era un ragazzo fantastico in tutto quello che faceva e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel paddock del Cib ma anche nella vita, nel cuore di tutte le persone tra familiari, amici e conoscenti che hanno avuto a che fare con lui, che lo hanno seguito nella sua crescita, nella sua vita e che hanno potuto condividere con lui momenti belli, momenti più difficili, emozioni positive, emozioni negative e che comunque in ogni caso hanno avuto la fortuna di far parte della sua vita e di averlo nella propria. Concludo questo ricordo con le parole di Filippo in cui lui menziona quello che era il suo sogno un sogno in realtà improntato sulle due ruote. Ciao Filippo Quale obiettivo ti sei dato? Allora, l'obiettivo è quello di fare del motociclismo il mio lavoro cioè io voglio correre, voglio farlo nella vita insomma al di là di fare le corse, di fare le gare che sono bellissime, che è una figata insomma, non so se si può dire però io voglio farlo per vivere che sia fare il pilota come che fa le gare nei campionati, magari nel mondiale sarebbe bello o che sia come tester, come collaudatore diciamo che sono entrambi due obiettivi che mi sarei posti insomma 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 Grazie a tutti.